coraggio ora vieni con me ti insegnerò e infine questa piccola cosa sotto il naso poi prendiamo della carta igienica ne strappiamo dei piccolissimi quadratini e li mettiamo uno qui e qui ovunque tu stia sanguinando qui qui non preoccuparti il sangue li terrà appiccicati sulla faccia e adesso si passa al dopo barba ed è così che ti si rada